pronto rosso dimmi sì ciao ascolta abbiamo un problema no no non mi dirai che esatto esatto sì lui lui è tornato aspetta ai 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 che vale non ti preoccupare quello lo sistemo io dopo comunque mi sembra che tu sia nuovo qui fammi indovinare sei un appassionato di videogame come me è vero no è magari ti piace guardare video cazzeggio oppure dei vlog neanche ci sono sei un appassionato di make up me lo sento proprio no eh vabbè se sei qui è evidente che hai sicuramente una passione in testa youtube allora lascia che ti conduca in un posto fantastico ebbene che ne pensi cosa dici è un po troppo buio per i tuoi gusti anche per me effettivamente risolviamo eccoci qua questa è la pagina del newtube cosa sono i newtube? beh devi sapere che sono o per meglio dire siamo un gruppo di youtubers con un pubblico modesto che portano sì contenuti differenti ma che in fondo in fondo tengono molto a ciò che fanno su questa pagina avrai la possibilità di trovare quindi video su argomenti diversi ricercarli all'interno della pagina e scoprire persone nuove tutto quello che devi fare è lasciare like e seguire la pagina in modo da essere sempre aggiornato sugli ultimi contenuti che aspetti guarda che ti tengo d'occhio come è andata? è andata bene? spero proprio di sì oh ehi sei ancora qui? beh lascia che mi presenti il mio nome è alchisus e questo è il mio canale gli ultimate gamers beh sarebbe un peccato se tu non facessi un giro sul mio canale a questo punto che ne dici? ho molti contenuti interessanti ti occupo soprattutto di videogame ma faccio anche vlog e alcuni video random parecchio interessanti oserei dire sì l'aggettivo giusto ti vorrei far conoscere anche gli altri membri dei youtube che sono Crona The Trigger, Connie Di Gregorio, Vanessa Life, Pergenese, Tiso95 e Last Blue trovi tutti i loro canali in descrizione quindi perché non ci fai un giro? spero che questo breve video vi sia piaciuto se è così iscrivetevi, lasciate un commento, un commento di piace passate naturalmente per la pagina che trovate anch'essa in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video quindi bella ragazzi ciao 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 ciao